Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Carmi Special è appena finita la partita Roma-Lazio una partita dominata appunto dalla squadra bianco-celeste sotto il punto di vista tattico soprattutto qui è la vittoria di Simone Inzaghi un allenatore giovanissimo ma che tatticamente prepara le partite davvero davvero bene complimenti a questa Lazio che è stata anche superiore a qualche erroruccio arbitrale sia su un rigore che poteva esserci su Lukaku e sia su ovviamente la simulazione di Stratune ragazzi qui scatterà ovviamente la prova a TV perché è un gesto antisportivo lo sapete come la penso sulle simulazioni ho fatto un video apposito che mi metto qui nelle schede ma ragazzi una Lazio che è stata fortissima ha avuto qualche sbandamento all'inizio con due parate comunque di Stracoscia che hanno tenuto a galla la Lazio dopodiché è venuta fuori passata in vantaggio con Keita che l'hanno praticamente guardato quando ha segnato poi dopo il pari comunque non ha abbandonato ha fatto un gran tiro parolo e Scesni lì ha fatto una grande parata anche lui nel secondo tempo ha trovato un gol un po' fortunoso di basta ma voluto anche di grinta se vogliamo dopodiché ha avuto anche l'occasione per il 3-1 con Felipe Anderson e anche lì Scesni è stato decisivo ma una Roma mai veramente pericolosa anche nel secondo tempo io mi aspettavo una Roma un po' diversa qui Spalletti veramente un po' tatticamente oggi ha praticamente perso un cappotto contro Simone Inzaghi quindi una vittoria assolutamente meritata Roma che non approfitta del buon rallentamento della Juve anzi perde addirittura un punto addirittura poi Rudiger la fa grossa pure nel finale partita per lui pessima migliore in campo forse Keita Balde e anche basta mi è piaciuto perché lo trovavi in difesa lo trovavi in attacco due giocatori veramente formidabili oggi Keita è un giocatore ragazzi da bene in squadra non aiuto tantissimo forse in difesa infatti comunque il suo compito era rimanere lì pronto per i contropiedi veramente tatticamente perfetta questa Lazio complimenti ditemi cosa ne pensate nei commenti lasciate un like se la pensate come me volete altri post partita se non siete iscritti iscrivetevi un saluto da Carmi Special alla prossima ciao